Il mercato offre soluzioni di kit robotici didattici versatili che permettono di svolgere attività laboratoriali molto interessanti, ma nella maggior parte dei casi si tratta di strumenti generici che possono adattarsi in diverse situazioni didattiche, con il grande svantaggio di essere costosi e ciò non permetterà ad ogni singolo studente di possederne uno e sviluppare in autonomia il proprio robot a casa. Una soluzione per realizzare una didattica personalizzata di coding robotica è quella che fa uso di tecnologie a basso costo, che impiega materiali di uso comune e strumenti di costruzione già in possesso di molte scuole. In modo tale che l'oggetto didattico possa essere creato, manipolato e modificato dall'allievo in piena libertà a scuola e a casa. Il corso ha quindi l'obiettivo di mostrare come poter sviluppare un percorso di robotica partendo dalla progettazione del kit robotico usando un software di modellazione 3D, che vi consentirà di produrre i sorgenti grafici per la stampa 3D o la realizzazione con cartone o compensato della struttura del robot, su cui verrà inserita l'elettronica necessaria controllata da una scheda BBC Microbit. Vi aspetto quindi al mio corso.